La scheda di sicurezza, oltre che un obbligo, un sinonimo di serietà e qualità della vernice che state utilizzando. Con l'entrata in vigore del PAN, del pari materia di regolamentazione dei prodotti fitosanitari e di altri riguardanti vari e ulteriori prodotti e materiali che possono essere usati su un campo da calcio, assume ancora più importanza la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è quel documento legale in cui vengono elencate tutte le informazioni sulle sostanze, i prodotti chimici pericolosi, le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente che sono necessarie per poter utilizzare in maniera corretta le sostanze e le miscele contenute nei nostri prodotti. È basilare, oltre che obbligatorio, anche per la vernice e per marcatura di aree sportive, fornire sempre la scheda di sicurezza. Se ciò non avvenisse, richiedetela sempre al vostro fornitore, a vostra garanzia e garanzia di qualità del prodotto che state utilizzando.